Salve a tutti, incredibile ma vero, le recriminazioni, i rancori, i veleni e anche i misteri dell'incidente mortale di Ronnie Peterson il 10 settembre 1978 a Monza non sono ancora svaniti. In una recente intervista al Corriere della Sera, Riccardo Patrese, che fu additato da cinque piloti come responsabile della fatale carambola, non ha esitato a dire «Fui il capo respiatorio perché volevano proteggere James Hunt. Veni processato in un motorhome, ma lui non disse una parola, aveva la coda di paglia. Ma ricostruiamo il come e il perché di quell'accusa». A Monza si arrivò con Mario Andretti ad un passo dalla conquista matematica del titolo. Al Gran Premio precedente in Olanda l'ultimo bisticcio con il forte compagno di squadra alla Lotus, Ronnie Peterson, al quale Andretti, forte dello status di prima guida, non concesse nemmeno qualche giro in testa. Nella stessa gara Patrese, sempre molto aggressivo con la Arrows, incappò in un rovinoso crash con la Tyrrell di Pironi. Emerson Fittipaldi lo mise in guardia. Gli altri piloti disse «ce l'hanno con te, per il tuo modo di guidare, è tempo di calmarsi». Poi il Gran Premio d'Italia, Peterson in terza fila, Ant in quinta, Patrese in sesta con la Ferrari di Reutemann a fianco. Lo start venne dato con mezzo schieramento ancora in movimento, ma all'epoca questo avveniva spesso. Ecco allora gli istanti decisivi. Patrese scatta bene, a differenza di Ant. Davanti a me, spiegò il padovano, diventò un ostacolo. Scartai a destra, oltrepassando la linea bianca di mezzeria. Se avessi frenato avrei provocato un tamponamento. Lo affiancai e dopo averlo superato e dato un'occhiata allo specchietto sono tornato al centro, alla mia sinistra, dove non avevo ostacoli. Ant ricostruì invece così l'accaduto. Mentre ci avvicinavamo all'imbuto, Patrese, che non poteva andare da nessun'altra parte, senza alcun peravviso, mi è piombato addosso, spingendomi contro Peterson. Le conseguenze purtroppo le conoscete. Lo svedese, plurifratturato alle gambe, morirà in ospedale per embolia lipidica, scatenando l'auda, che fu tra i più severi accusatori di Patrese. Ha cercato di entrare nel mucchio, disse, ma doveva sapere che non poteva andare bene. Un buon pilota deve capire quando una cosa non si può fare dove frenare. Morale, lui, Fittipaldi, Ant, Schechter e Andretti si coalizzarono e ottennero l'esclusione di Patrese per un gran premio, cosa che avvenne in America. Sempre nella recente intervista, Patrese ne ha proprio per l'auda. Lui difendeva i piloti del giro Philip Morris ed era amico di Ant, come avrei imparato anni dopo grazie al film Rush. Un'altra ferita non rimarginata in Patrese che, ricordiamo, subì un processo penale per omicidio colposo fu la testimonianza contraria di Arturo Merzario, che tra l'altro in un'intervista di qualche anno fa su Real TV reperibile su YouTube in qualche modo tira in ballo anche il ferrarista Carlos Reutemann. Sentite, io vidi Carlos che fu costretto a fare una certa manovra, da dove si innescò la carambola. Guardandoci bene, da quell'incidente Reutemann non è stato più Reutemann. Sarà perché ha costretto un suo amico o collega ad andare contro un guardrail, conclude in modo alquanto sibillino il pilota Comasco. Per Patrese la sentenza dei giudici della sesta sezione del Tribunale di Milano arrivò il 28 ottobre 1981 e fu, unitamente al direttore di gara Gianni Restelli, di assoluzione per non aver commesso il fatto. Come finì tra Patrese e James Hunt in seguito divenuto commentatore BBC lo racconta lo stesso Riccardo. Un giorno ci incrociamo da Eccleston e Bernie gli disse che era tempo di chiedermi scusa. Lui ribattè che non doveva farlo e allora io gli sparai un waff definitivo. Grazie per l'attenzione, se il video ti è piaciuto lasciami un like e se vuoi puoi iscriverti al canale gratuitamente e guardare subito quest'altro video. Ciao